Ho incontrato Mario Giornani, il produttore di Wellside, e mi ha chiesto se ero interessato a esordire alla regia. Ho cominciato a lavorarci inizialmente da solo e poi improvvisamente si è appassionato al progetto Marco, che oltre ad essere un valente sceneggiatore è uno dei capi della Wellside. Diciamo anche l'idea di Edoardo di lavorare sulla commedia che però avesse come tema, come avete visto, la spiritualità. In realtà era una cosa che a me come scrittore, come sceneggiatore stimolava tantissimo, perché è rarissimo trovare, forse non so se esiste tra l'altro, un film, una commedia recente. Recente no, c'è un'altra cosa, per Grazia Ricevuta, è un ottimo film di Nonfredi, insomma è abbastanza raro il tema. Però appunto essendo un tema così complesso da trasformare in commedia, mi sembrava comunque veramente un'occasione per fare qualcosa di nuovo.